Allora, siamo sempre con la mente al mare, andiamo in Lidi di Chioggia, ma ci spostiamo lungo tutto il litorale, insomma zona bellissima, il sole, il caldo, che bello. Dottoressa Pinelli, cosa c'è da vedere? Perché dopo faremo anche delle attività sportive con la Presidente, vedremo, mangeremo perché ci verrà anche un bel appetito e racconteremo delle belle sorprese, però c'è tanto da vedere. Beh, dovrei stare qua una settimana per dire tutto quello che c'è di bello da vedere a Chioggia. La prima cosa però che mi viene da dire a raccontare ai nostri telespettatori è che noi vantiamo dell'orologio da torre più antico al mondo ancora funzionante e non tutti i telespettatori, ma anche i chioggiotti magari ne sanno di questa cosa, che dal 1386 noi abbiamo questo antico orologio ancora funzionante da torre. Tra l'altro sono venuti giù delle persone dal Big Bang e hanno proprio valutato che il nostro è più antico, infatti adesso abbiamo le immagini che si possono vedere. Questa è una torre che poi risale al 1386, un orologio che si dice costruito dalla famiglia Dondi. Questa torre poi successivamente è stata adibita a museo e ha quattro piani e ogni piano, molto piccolo come torre, ogni piano c'è, ci sono delle varie stanze, ce n'è una in particolare dove ci sono gli antichi voti che sono le tolele, perché i nostri pescatori quando andavano in mare poi non era sempre bel tempo e quindi le moglie e i figli andavano a pregare che poi ritornassero vivi, quindi andavano a fare degli ex voto. E come diceva anche prima la nostra... Eccoli qua, sono ex voto, no? Sì, eccoli qui. Abbiamo tantissime cose da vedere, abbiamo una spiaggia lunghissima, lunga quasi dieci chilometri e su certi punti raggiunge addirittura cento metri di profondità. Però posso solo un secondo, questo è all'interno anche della chiesa? Sì, sì, questo è l'orologio penticolamono, ancora funzionante, questi sono i meccanismi. Sono bellissimi, sono affascinanti, quindi... però veramente non lo sapevo, sono tutte cose che bisogna... qualcuno le racconti, altrimenti non si sanno, si va completamente. Sì, poi Chioggia è stata dal 1987 anche insegnata come patrimonio UNESCO e anche città d'arte. Volevo arrivare anche sulle escursioni, perché per quanto riguarda... volevo rilasciarmi un attimo ai miei colleghi di prima. Quando un turista viene a Chioggia, oltre alla storicità di Chioggia, le chiese e la parte storica, può passare anche all'escursione... cioè l'uvole all'aria aperta, quindi abbiamo escursioni tipo l'escursione in barca, i tour in laguna, i giri in bike, la passeggiata in diga. Abbiamo tante cose da offrire, i kitesurf che prima si vedeva. Infatti si vede la kitesurf, che è un'attività che piace tantissimo. Un'attività sportiva, sì. Bella impegnativa. Sì, abbastanza. Le immagini che sono state fatte sono di due settimane fa, tra l'altro. Questa è la famosa diga, tutta percorribile a piedi, con i famosi casoni, dove qui si pesca. Sono anche degli iti turismi, no? Sì, sì, degli iti turismi. Qui praticamente si pesca il pesce, te lo possono anche cucinare al momento, una tipicità a Chioggia. Molto bello questo. Sono bellissime queste immagini, poi anche suggestive in questo periodo in cui le avete fatte, perché comunque danno un'atmosfera diversa. Qui ci sono i gabbiani che tentano di rubacchiare il pesce nella rete. Tra l'altro voi fate delle escursioni anche in barca organizzate, vero? Sì, sono i tour e o li facciamo dentro la laguna di Chioggia, si vanno a vedere i vivai, si va a vedere la vicina pellestrina, oppure si va anche fuori in mare e poi all'ora di pranzo c'è anche la possibilità di mangiare direttamente nella barca. Ah bello, caspita. E questo ci sarà anche d'estate, adesso con l'avanzale della stagione, quindi ci sarà questa opportunità. bellissimo. Che cosa chiedo a lei Presidente? Dopo torniamo a come smaltire quello che mangeremo, ce lo racconterà la Presidente, quali sono le strategie. Intanto qui vediamo il molo. Che cosa si può mangiare? Quindi enogastronomia, voi avete fatto anche un lavoro di raccolta di quelle che sono le storie, le ricette, dei prodotti tipici della zona di Chioggia e dintorni. E quindi che cosa offre la stagionalità e non solo? Sì, è un nostro brand, quello che puntiamo molto dal 2021 in poi diciamo. Il rilancio anche della nostra cucina è importantissima, ma non un rilancio né rivisitarla. Noi stiamo puntando tanto alle ricette tradizionali del nostro territorio. Noi abbiamo fatto, abbiamo collaborato perché i maestri della stesura sono stati Sergio Ravagnan, il professor Sergio Ravagnan, che è il nostro guru storico della località di Chioggia e Sottomarina. E assieme a Memmo, il nostro pittore massimo di espressione che abbiamo, ha disegnato e hanno scritto a mano tutte le ricette di Chioggia, proprio le ricette storiche. Non voglio dire le sardelle in sauro che le conoscono tutti, ma là trovate delle ricette molto particolari. Posso aprirlo anche per far capire un po' come è questo? Delle ricette molto particolari che solo dentro quel libro lo trovate. Quello è una Bibbia. Eccolo qua, tra l'altro sono prodotti tipici del territorio, sono ricette raccontate, ma raccontate anche come avviene la raccolta del pesce, come viene preparato, la tradizione, sono belle anche le raffigurazioni che ci sono. Queste raffigurazioni hanno anche una matrice storica. Hanno una matrice storica, sono tutti disegnati proprio a mano. Queste ricette sono state proposte allo storico però da ristoranti chiogiotti. Proprio il ristorante stesso che la applicherà all'interno della propria cucina ha fatto la ricetta che poi è stata scritta. Questo è un patrimonio dentro quel libro che se uno prendesse quel libro e andasse, e faccio l'esempio, ad aprirsi un ristorante all'estero, utilizzando quel libro, la cucina chiogiotta, farebbe un ristorante di un giro incredibile perché è la cucina vera italiana chiogiotta veneta italiana. E' bello anche perché poi tra l'altro qua vedo la zucca marina di Chioggia che è tipica perché è una zucca salina ed è particolarissima, stagionale, però ha una sua storia anche questo e qui la raccontate tra l'altro. Sì, è vero perché bisogna precisare, a volte parliamo sempre di cucina chiogiotta, precisiamo che abbiamo anche una cultura sottomarinante perché Chioggia e Sottomarina sono due città che si sono fuse, due cittadine, il radicchio di Chioggia, la carota di Chioggia, la zucca e là abbiamo riportato anche le ricette, vere ricette dei sottomarinanti dentro quel libro. Perché ci sono gli orti. Ci sono gli orti. E' vero. E come si diceva prima, diceva il Presidente, è grazie a quella sabbia, quella sabbia che si riscalda molto presto, però avendo quei minerali, riesce a dare dei prodotti orticoli di grande pregio. Hanno poca buccia e sono molto dolci, sicché abbiamo dei prodotti orticoli incredibilmente buoni nel territorio di Chioggia e Sottomarina e che noi li mettiamo a disposizione i nostri clienti all'interno degli alberghi. perché noi quest'anno faremo delle ricette a tema settimanali dove ci sarà il prodotto orticolo anche, ma ittico, poi parleremo anche dell'ittico, a chilometro zero del nostro territorio. Bellissimo. Il pesce, perché poi c'è il rotto frutta e poi c'è il pesce, il famoso mercato del pesce di Chioggia, bisogna ricordarlo questo, perché questa è anche una chicca, a parte che ha una valenza commerciale strategica per tutto il nord Italia, quindi non solo, anche per l'estero. Per cui il pesce è fresco in assoluto. Fa 180 milioni di chilogrammi all'anno di produzione solo di pesce e fa 180 mila chili di cozze. Cosa, caspita? 180 mila chili di cozze. È una roba incredibile, è il terzo produttore italiano di cozze, Chioggia. No, questo non lo sapevo in assoluto, veramente. Abbiamo di qui i vivai che sono incredibili e la cozza di Chioggia, proprio la vera cozza, è incredibilmente saporita e piena, è piccolina ma piena di polpa, di sapore. Quando è la stagione? La stagione adesso stiamo andando di stagione fra poco, fra poco preparatevi appena si può muovere, veniteci a trovare. Ci si può già muovere, naturalmente per adesso con limitazioni di orario che sono dovute, però insomma si riesce ugualmente a mangiare, a stare bene, tutto. C'è un accordo che voi avete fatto con un consorzio, col Cogevo. È il consorzio numero uno di produttori, proprio di tutto quel, come possiamo chiamarlo, che sarebbe la vongola, la bibi? Bivalda. È sempre questo nome un po' di difficilino. Loro sono una cooperativa di pescatori che vanno proprio a pescare direttamente in mare, questo tipo di prodotto ittico e abbiamo fatto un accordo di collaborazione ma anche di promozione e siamo stati i primi a livello nazionale a sottoscrivere questo accordo, che questo accordo è stato preso anche da Roma, dal Ministero, perché è un esempio di collaborazione tra il mondo ittico e il mondo del turismo. È venuto come esempio di collaborazione. Questo è importante perché comunque c'è una sinergia tra tutte le parti in causa, non c'è uno da una parte e uno dall'altra. Quindi grandi ricette del territorio, nei ristoranti la ristorazione offre questo, si possono riprodurre quei prodotti che si possono comprare nelle botteghe, perché poi anche questa è una bellissima scoperta, ci sono le botteghe, anche le botteghe del pane presenta i dolci tipici del territorio, il pane di chioggia, sono tante piccole chicche, però bisogna scoprirle, bisogna entrare in questi negozi storici, perché secondo me hanno una valenza anche storica, chiedere, osare. Ci sono anche i dolci nel Cevo, che non vanno dimenticati, poi abbiamo i nostri telespettatori, le telespettatrici che sono mazze dei dolci. Chiedo a lei, Presidente, dopo così lei mi dice come si fanno di manca, come si fa a buttare giù le calorie dei dolci. Movimento. Le meringhe con la panna. Ah, una bontà. Cioè, non vengono menzionate, Presidente, lo so che magari lei... Questo è un dolce che lei piace tanto, perché anche l'altra volta l'ho eliminato. Sì, sì, è una cosa straordinaria, così si trovano solo a chiodo. Alcuni ristoranti lo propongono anche come dopo il pasto, insomma. No, ma sono eccezionali, e poi ce ne sono tanti altri, c'è il pane con il cioccolato. Il pane giassa che è fatta con la zucca. Bravissima, infatti. È buonissimo, è dolce. Poi c'è il pane col cioccolato. E il pane dolce. Il pane dolce con la nutella dentro. Ah, nutella. Sì, è proprio nutella, è buonissimo. È spaziale. Se mangiamo tutte queste belle cose, come facciamo a smaltire? Allora, intanto bisogna mangiarle, perché già pensare di non poterle mangiare fa già male. Allora è meglio... Alza la sorrotonina, quindi ci mettiamo bene. Eh, no, va bene. Bisogna mangiarle, logico. Bisogna accontentarsi di una, massimo due fette. Non si può mangiare tutta la torta intera. Però dai, dopo la si può smaltire con un po' di sport. Cosa si può fare? Uno che viene in vacanza, senza fare chissà che sport eccessivo, può prendersi una bicicletta. Ma adesso le nostre strutture... Quindi anche i bike c'è. I bike. Le nostre strutture non più di... quasi tutte hanno a disposizione delle bici. Oppure, se qualcuno se le vuole portare giù, come spesso fanno anche i tedeschi, alcuni alberghi sono anche propensi, hanno la disponibilità per poterle tenere. Con la bicicletta cosa si può fare? Il nostro territorio è vastissimo. Ci sono bellissimi percorsi. Ci sono bellissimi percorsi, sia su strada, quindi con la bici da corsa, oppure su sterrato. Quindi si possono fare dei trial con la bici, con la mountain bike, con la classica mountain bike. Ci sono dei percorsi brevi per principianti, per professionisti, per amatori. Ma che belli lunghi è comunque un po' di tutto. Quindi si può fare un giretto di 5-6 km, come arrivare anche a 60 km, facendo il giro magari delle valli, passando per Rosolina. Lì c'è la via delle valli, ci sono dei panorami bellissimi. E uno magari si ferma un attimo, fa qualche foto, magari si ferma su qualche posto consigliato da noi, si fa un piccolo break e poi ritorna. Quindi se uno... e si brucia, perché si brucia. E si brucia sopra. Si brucia e si risoda. L'esperta di turismo all'aria aperta, di attività. Sì, beh io sono amante dello sport e quindi se posso, se devo star ferma, cammino. Quindi è il mio stile di vita, perché vedo che comunque fa star bene, ma non in senso maniacale. Lo faccio perché sento che sto bene. Perché si sta bene, assolutamente. Ci si muove, quindi ha ragione fare sport, camminare, correre, tutto quello che è possibile, fare kai surf per chi osa di più. Vicepresidente, la mobilità. La mobilità è un aspetto molto molto importante. Ad alcuni ha un certo tipo di turismo più mordi e fuggi, la mobilità con Chioggia fa un po', dà un po' di ansia. E invece Sottomarina è una delle primissime località, Sottomarina, Chioggia è una delle primissime località con Sottomarina dove la mobilità elettrica è partita in tempi non sospetti. No, ma è verissimo, l'unico paese dove si trovavano tutte le bici elettriche che uno non ci crede, ma eravate voi. Quindi avete bypassato, diciamo, le altre realtà. Com'è la situazione della mobilità? Allora, noi abbiamo cercato di mettere in strada dei rapporti di collaborazione, anche privati, che colleghino le province di Venezia, Vicenza e Verona con Sottomarina e Chioggia. Giusto menzionare le principali aziende turistiche, aziende di trasporti, chiedo scusa, Bus Italia, che collega la provincia di Padova a Sottomarina e arriva Veneto, la provincia di Venezia a Sottomarina e poi ci sono anche le ferrovie tranvicentine che durante il periodo d'estate mettono in piedi dei viaggi di andata e di ritorno poi alla mattina e pomeriggio successivamente con la nostra località. Abbiamo fatto anche un accordo con la ditta marca Zanviaggi che dal 19 di giugno partirà fino al 31 agosto tutti i giorni con un transfer verso Sottomarina. Partenza delle 6 e mezza della provincia di Verona, passerà poi sui principali paesi della provincia veronese dopo che arriverà a Sottomarina per le ore 9. Partenza dalle 18 e si ritornano a casa verso le ore 8. Organizzatissimo proprio tutta la giornata completa. Sul tragitto di Bus Italia e Riva Veneto è una cosa importante che c'è ogni mezz'ora un autobus che parte da Padova e arriva a Sottomarina, non è diretto perché fa alcune fermate intermezze, però ogni mezz'ora sia per la Riva Veneto, quindi per la provincia di Venezia che per la provincia di Padova, ogni mezz'ora parte un autobus diretto a Sottomarina. In attesa del famoso treno, in attesa, arriverà. Sì, noi abbiamo fatto pressione soprattutto per quanto riguarda anche la regione, è la cosa che da anni stiamo cercando di portare a casa, ma lo stiamo ancora in questi ultimi mesi. Ma questa è tutta Italia, non c'è problema, ci sono tante località che lo vorrebbero. Ma noi lo stiamo ribadendo con i piedi puntati nell'ultimo periodo, perché è una cosa che ci teniamo, anche perché il nostro scopo è quello di disincentivare la mobilità privata e anche questo eviterebbe anche una congestione minore sulle strade statali che arrivano a Sottomarina. Quindi l'aspetto del treno e anche l'aspetto di usare i mezzi di linea pubblica, chiamiamoli così, danno veramente un aiuto anche in città. Assolutamente, ma poi ci sono delle strategie, perché fluendo degli hotel, degli alberghi che ci sono, muovendosi in certi orari, uno riesce anche ad ovviare al traffico veicolare, quello dei fine settimana, insomma, no? Sì, anche perché comunque noi abbiamo dei rapporti molto stretti con le compagnie che fanno questo tipo di servizio e stiamo anche cercando di posizionare delle fermate diverse che siano più accessibili, soprattutto ai clienti, agli hotel dove devono alloggiare anche le spiagge. Ah, quindi si può arrivare anche vicino alla zona degli alberghi. Esatto, che durante l'estate stiamo, appunto in questi ultimi mesi, stiamo abbozzando per cercare di offrire un servizio sempre maggiore al turista. Beh, bellissimo. Salire in autobus sicuramente è meno stressante che guidare sotto il sole magari con una coda, quindi è anche un sistema per stare più rilassati. Assolutamente, sì. Perché dopo un giorno di spiaggia, ecco, spesso ci si rilassa, ma è là che ci si deve concentrare per evitare i tamponamenti che sono non tanto gravi, però che sono quelli più frequenti quando cala l'attenzione perché comunque la spiaggia stanca tanto. Poi, se si fanno le attività che diceva prima la Presidente, allora conviene fermarsi in qualche albergo. Eh, infatti volevo dire, conviene fermarsi in qualche albergo, prendersela con più tranquillità. Insomma, dopo tanto periodo di chiusura bisogna un po' godere anche delle opportunità. dimenticavamo, ma non volevamo dimenticarci, che è bandiera blu. Eh sì, anche quest'anno è stata insegnata. Quindi anche l'acqua. Anche l'acqua, sì. Anche quest'anno sotto Marina Lido e Chioggia è stata insegnata della bandiera blu come qualità della spiaggia e qualità dei servizi offerti nelle nostre spiagge. È importante per voi questo riconoscimento? È importante, dà un qualcosa in più anche a chi cerca proprio la qualità proprio del mare e nel turista magari quello più... Eh no, ma è fondamentale. Eh sì, anche quest'anno abbiamo ricevuto la bandiera blu. I vostri comp... Ecco, infatti qua vediamo anche un'immagine che ci fa vedere anche la bellezza e il fatto che comunque sì, effettivamente stiamo parlando di una realtà che è staccata dal resto, perché Chioggia Sottomarina, anche la parlata stessa, è diversa dal resto del Veneto. Ci si dimentica tante volte ma si entra un po' in un altro mondo, no? Sì. E quindi è romantica. È chioggia romantica, sì. Chioggia diventa... è già bella di per sé. Quando diventa sera, secondo me, diventa ancora... si veste a sera, secondo me. Io la chiamo proprio chioggia romantica perché all'interno intanto c'è il corso del popolo che è bellissimo, la passeggiata nel corso del popolo e poi perché è piena di calli, come è simile molto a Veneto. E poi è una piccola Venezia, è stata definita una piccola Venezia. La piccola Venezia, i punti, ci sono gli scorci, ogni tanto magari si trova qualche calle che magari non si è mai vista. Non si è mai vista. Voi proponete delle escursioni su misura, quindi una vacanza proprio che fa emozionare, cucita ad persona, ma a famiglia, coppia. Cioè che cosa? Cioè noi praticamente quando arriva il turista, lui ci dice cosa piacerebbe a lui fare. E noi gli proponiamo l'escursione proprio cucita, la definiamo cucita su misura. Vuole fare la gita in barca e poi magari tornare e fare il giro in bicicletta. Noi gli proponiamo al momento, gli confezioniamo l'escursione. Un po' una specie di pacchetto? Un pacchetto, sì. Come succede quando si va all'estero, no? Sì, però fatto al momento. Non sono i classici pacchetti magari che tu trovi le tre cose o le due cose già pronte. Noi glielo confezioniamo su misura. E pellestrina, che rapporto ha con la vostra realtà? Beh, pellestrina è... È parte integrante? Sì. È una realtà staccata? No, è integrante perché... Ve lo chiedo perché ci hanno scritto proprio di pellestrina. pellestrina è un gioiellino. Io ci sono passata proprio l'altro giorno in barca e l'ammiravo... E che fortunata, parentesi, eccola là. Sì, domenica ho fatto un bel giro in barca, a vela, e ci sono proprio passata e quando io passo a pellestrina io rimango un po'... E gli occhi si illuminano, brillano, perché ci sono delle... Guardavo proprio le case tutte belle colorate e poi ci sono i murazzi. Sì, è facilissima anche da raggiungere a Chioggia perché con il vaporetto si può prendere la linea e è la prima fermata. Ma perché è un'alternativa anche in questa mezza stagione, no? Che è primavera, però fa più caldo, non è estate. E perché non approfittare di fare dei bei tour, delle belle escursioni, approfittando di quello che c'è anche nelle distanze di Mitrofe? Esatto. Tra l'altro dicevo che si può arrivare benissimo anche con la bicicletta, nel vaporetto ti carichi la bicicletta, poi il vaporetto ti lascia alla prima fermata e poi puoi fare tutta pelestrina, addirittura dopo puoi arrivare fino a Malamocco, prendere il mini traghetto e poi puoi andare fino all'Ido di Venezia con la bicicletta. Proprio è un classico giro che i bike, diciamo, approvano. Approvano, ce l'ha approvato. Approvato. Allora, siamo in chiusura, faccio una battuta a testa. Lei, vicepresidente, qual è una cosa che consiglia in modo particolare? Beh, insomma, visto il maggior numero di pronotazioni che stanno arrivando sulle nostre strutture, telefonateci, scriveteci. Approfittare e farlo il prima possibile per trovare la struttura migliore. Esatto, perché noi siamo già operativi. Ah, siete già operativi. Le strutture quando aprono? Beh, alcune hanno già aperto. I prossimi apriranno soprattutto con il prossimo fine settimana, inglobando il primo maggio, e partiranno tutte comunque verso la metà di maggio. Le spiagge aprono, le spiagge attrezzate invece? Allora, come ora di PCM impone l'apertura delle spiagge dopo il 15 maggio. Dopo il 15 maggio. Quindi, vabbè, tanto si può fare passeggiate, si può fare tutto quello che vi avevo detto. Sì, la spiagge è comunque accessibile. Sì, sì, certo. Sì, sì, se una persona arriva al mare... Ecco, infatti questo, è accessibile la spiaggia? Sì, perché ci sono comunque, tra diversi stabilimenti balneari, gli accessi pedonali pubblici che ti portano proprio lì al mare della battigia, dalla quale poi si può accedere allo stabilimento balneare. Ma alcuni sono anche aperti, perché comunque non hanno la possibilità anche ai clienti, comunque di, con attrezzature proprie, senza noleggio, di poterci... Di accedere alla struttura, benissimo. Velocissimo, cosa consiglia lei invece? Allora, io consiglio sempre di venire nelle nostre spiagge, perché comunque è un toccasana per la salute. E quindi salute, salute al primo posto. Salute al primo posto e spazi aperti. Perfetto. Venite. Venite. Presidente, la ricetta che lei preferisce di Chioggia? Ah, l'ho presa in contropiede. Il popolo chiogiotto è un popolo che non ama la globalizzazione, è un popolo verace, Chioggia e Sottomarina, sì che siete sicuri nel nostro territorio, sia come sicurezza personale, non abbiamo delinquenza, siete sicuri come sanità e siete coccolati dalla nostra professionalità. Veniteci a trovare e sarete soddisfatti. Perfetto. Un piatto che le piace tanto di chi è vostro? Il Sardin Saur. Ah, c'è piccola. Sono diverse rispetto a quelle che si trovano in altre parti? Ognuno le fa a modo proprio, sì. Vanno assaggiate, assolutamente. Esatto, deve venire a assaggiare. Stavo scorrendo prima quelli, stava venendo un asparagi, la spia, caspita, l'asparago bianco di Conca, ecco qua che mi trovo risi e bisi, ma vabbè, chiudiamola. Allora, io vi ringrazio di essere stato qui con noi, con invidia vi lascio tornare i vostri lidi di Chioggia. A voi telespettatori abbiamo dato un bel suggerimento per una proposta vicina, portata di mano per qualsiasi momento, per liberarsi l'anima e per star bene in salute, come diceva anche la Presidente. Detto questo, noi ci rivediamo subito dopo la pubblicità per altre interviste.